Nascondevano la droga tra le radici degli alberi in pieno centro storico per poi recuperare le singole dosi a richiesta dei clienti. Sono stati però incastrati grazie alle segnalazioni di alcuni residenti che da tempo avevano notato alcuni movimenti sospetti nella zona. Il blitz dei carabinieri della compagnia di Arezzo è scattato ieri interrompendo così l'attività illecita che durava da tempo. Sono stati denunciati due tunisini e un pakistano tutti pregiudicati per reati specifici spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo le segnalazioni dei cittadini i militari avevano organizzato un'apposita attività di osservazione che proprio ieri ha consentito di ricostruire le attività dei tre che avrebbero gestito lo spaccio. La droga veniva nascosta nelle radici interrate degli alberi nel cuore di porta crucifera per poi essere recuperata al momento del bisogno. I tre pusher avrebbero infatti girovagato nelle strade del quartiere in attesa di possibili acquirenti. Una volta canciati li portavano lontano da sguardi indiscreti sotto le mura della fortezza o a ridosso del cimitero dove avveniva l'accessione. Nel corso delle attività di controllo e perquisizione in cui sono stati impiegate anche le unità cinofile sono stati rinvenuti circa 30 grammi di hashish e sono stati segnalati alla prefettura due soggetti sorpresi mentre acquistavano lo stupefacente.